Equità pensioni, operazione trasparenza. Questo è il titolo del convegno promosso da Federmanager nel corso della giornata nazionale della previdenza a Napoli. Diciamo che l'obiettivo principale sta nel titolo. Abbiamo chiamato Equità pensioni operazione verità. Perché pensiamo che nell'illustrazione dei dati che riguardano il nostro sistema pensionistico spesso vengano fatte affermazioni un po' ad usum delfini come dicono i giuristi, cioè con la dimostrazione di dati che sono un po' di parte. Noi vogliamo invece che metta in evidenza quelli sono i dati veri del nostro sistema previdenziale che dovrebbero essere opportunamente riclassificati. Perché nel nostro sistema previdenziale quello che chiamiamo pensione, in realtà di pensione ce n'è solo una parte, perché c'è un'altra parte che viene finanziata sia dai contributi sia dalla fiscalità generale che invece dovrebbe essere più nel campo dell'assistenza e quindi trovare diverse fonte di finanziamento. La prima operazione verità è quella di individuare qual è il vero coefficiente, il vero rapporto tra pensione e PIL, si dice che il nostro Paese ha un rapporto alto tra la spesa pensionistica e il PIL, oltre il 15%, in realtà in questa spesa c'è una quota rilevante di prestazioni assistenziali, depurando dalla spesa queste prestazioni scenderemo già al 13%, se anche includendo queste prestazioni ma togliessimo la fiscalità sulle pensioni, perché per lo Stato la fiscalità è una partita di giro, allora saremo poco sopra il 12%, che significa assolutamente allineati con quello che avviene negli altri Paesi.